La Chiesa Apostolica di Zernia è vicina ai cittadini e in questo particolare periodo storico, faticoso anche dal punto di vista umano, ha deciso di trasmettere un messaggio di speranza alle associazioni presenti sul territorio, ai singoli cittadini e alle amministrazioni comunali attraverso la donazione di 3.000 kit di protezione anti-Covid. L'iniziativa è partita proprio con la protezione civile, con il nucleo della squadra di Pettoranello del Molise e di scapoli. Il kit salvavita consegnato comprende una mascherina colorata in TNT, lavabile e riutilizzabile, prodotta da ACP Onlus, associazione umanitaria che si occupa di assistere i cristiani perseguitati nel mondo. Due opuscoli di informazione cristiana e uno sul coronavirus. Abbiamo pensato di fare un omaggio qui alla cittadinanza di Zernia attraverso i vari nuclei della protezione attraverso la signora Emanuela Pulci che è rappresentante di questa associazione il quale prenderà queste mascherine e le donerà al reparto del suo paese, di chi ne ha bisogno. E più un'altra parte lo daremo alla signora Rosaria Ferraro, sempre dello stesso nucleo, di scapoli. La donazione di queste mascherine è un piccolo gesto ma racchiude in sé una grande importanza, riferisce il capo del nucleo di Pettoranello del Molise Emanuela Pulice. Sapersi aiutare a vicenda è fondamentale in un momento particolare come questo, con la speranza che sia di insegnamento per il futuro e perché il futuro possa essere migliore per tutti.